Buongiorno a tutti. Nonostante le fortissime pressioni provenienti dai docenti coinvolti e da una parte della politica, l'intervento sul vincolo quinquennale è stato troppo timido. Nella seduta del 20 maggio, infatti, il Consiglio dei Ministri, in sede di approvazione del decreto sostegni bis, ha introdotto una norma che interviene proprio sul vincolo quinquennale, in particolare modifica l'articolo 399 del testo unico della scuola e il decreto 59 del 2017, riducendo da 5 a 3 anni il vincolo. In particolare, il vincolo quinquennale passa da 5 a 3 anni per i docenti messi in ruolo dalla graduatoria del DDG 85 2018, con decorrenza dall'1 settembre 2019, nonché per tutti i docenti messi in ruolo dal 1 settembre 2020. Quindi si tratta soltanto di una riduzione del peso posto su queste categorie di docenti, i quali restano comunque vincolati, anziché per 5 anni adesso per 3 anni, sulle sedi di prima assunzione. Null'altro, aggiunge la norma, quindi restano ferme le ipotesi di deroga per i nuovi messi in ruolo dal 1 settembre 2020, per le situazioni di esubero o soprannumerarietà o per i casi di cui è l'articolo 33 della legge 104 del 92 e purtroppo resta fermo il vincolo e quindi l'impossibilità di partecipare alle proiezioni di mobilità annuale, quindi di utilizzazione e assegnazione provvisoria, che era forse ormai divenuta la cosa più urgente da affrontare vista l'imminenza delle aperture delle operazioni. Quindi probabilmente si tratta di una delusione per quanti speravano in quest'ultima occasione per poter presentare almeno la domanda di assegnazione provvisoria. Vedremo come andrà e vi invitiamo a seguire il sito della tecnica della scuola, il canale YouTube e i canali social per essere costantemente aggiornati. Arrivederci. Grazie a tutti.